openheimer la bomba atomica non è un bel bambino e avrà un centinaio di padri se teniamo conto delle ricerche preliminari in vari paesi roba comunque questo bambino è nato allo salamos nei laboratori fondati da lei e che lei ha diretto dal 1943 al 45 sì siamo stati noi a fabbricare questo giocattolo brevettato non vorrà negarlo professore ha fatto la bomba atomica in un lasso di tempo straordinariamente breve l'ha sperimentata e alla fine l'ha lanciata sul giappone è così no no il lancio della bomba atomica su l'oscima è di peso da una decisione politica non mia ma lei ha appoggiato o no il lancio della bomba sul giappone cosa intende per appoggiare ha aiutato a scegliere gli obiettivi non è vero ho fatto il mio lavoro abbiamo ricevuto una lista dei possibili obiettivi cioè hiroshima kokura nigata kyoto e c'è stato chiesto in qualità di esperti quali sarebbero stati secondo i nostri esperimenti gli obiettivi più adatti al lancio della bomba atomica a chi è stato chiesto professore ha un consiglio di fisici atomici nominato dal ministero della guerra chi ne faceva parte fermi lawrence arthur compton e io e voi dovevate scegliere gli obiettivi no noi abbiamo detto quali requisiti dovevano avere gli obiettivi quali erano i requisiti richiesti secondo i nostri calcoli doveva trattarsi di un'area del diametro minimo di due miglia molto fittamente coperta da edifici possibilmente di legno per via della pressione atmosferica e dell'onda di calore successiva gli obiettivi dovevano essere inoltre di grande valore militare strategico e non dovevano aver subito bombardamenti in precedenza perché per poter così valutare esattamente l'effetto di una bomba atomica dunque queste considerazioni di carattere militare mi sembra a quel tempo aspettavano ai fisici sì perché soltanto noi avevamo l'esperienza necessaria capisco è una cosa inconsueta per me che cosa ha provato in quell'occasione me lo sono chiesto più tardi non lo so mi sono sentito molto sollevato quando il ministro della guerra dietro nostra raccomandazione ha tolto dalla lista chioto la famosa città dei templi che era l'obiettivo più grande e più importante ma al lancio della bomba atomica su iroshima lei non si è opposto abbiamo dato delle ragioni per non le chiedo professore se lei si è opposto ho fornito delle ragioni contrarie alla cosa contrarie al lancio della bomba atomica precisamente ma non ho insistito non in modo energico vuol dire che dopo aver lavorato giorno e notte per tre o quattro anni per fabbricare la bomba atomica lei ha sostenuto che non si dovesse usare no quando il ministro della guerra ha chiesto il mio parere ho dato delle ragioni pro e contro ho espresso dei dubbi ma lei professore non ha anche stabilito a quale altezza dovesse scoppiare la bomba per produrre i maggiori effetti noi abbiamo fatto in qualità di tecnici quello che ci veniva chiesto ma non per questo siamo stati noi a decidere di lanciare la bomba lei sapeva naturalmente che il lancio della bomba atomica sull'obiettivo scelto da lei avrebbe ucciso migliaia di civili non tanti quanto sono stati in realtà quanti morti ci sono stati 70.000 in seguito a questo fatto ha avvertito degli scrupoli di natura morale terribili degli scrupoli morali terribili non conosco nessuno che non abbia avuto dei terribili scrupoli morali dopo il lancio della bomba questo non le pare un poco schizofrenico che cosa avere scrupoli morali fabbricare la bomba scegliere l'obiettivo stabilire a quale altezza deve scoppiare e poi essere assalito da scrupoli morali per le conseguenze non le pare un po schizofrenico professore sì è il tipo di schizofrenia nella quale noi scienziati viviamo da alcuni anni vuol chiarire delle scoperte scientifiche si è fatto un uso terribile l'energia nucleare non è la bomba atomica intende dire che potrebbe essere utilizzata per scopi industriali e via dicendo potrebbe dare finalmente il benessere è una questione di energia a bassissimo costo lei pensa a un'età dell'oro al paese di cuccagna e cose di questo genere sì io penso alla ricchezza per nostra disgrazia gli altri pensano ad usi in certo qual modo completamente opposti che sono gli altri professore i governi il mondo non è maturo per le nuove scoperte è un mondo uscito dai cardini e lei sarebbe un po venuto a rimetterlo in sesto come dice amleto io non posso far niente deve rimettersi in sesto da solo e lei professor openheimer vuole dire a un vecchio uomo paralitico come me di aver fabbricato la bomba atomica per creare il paese di cuccagna o non l'ha fatta per caso per adoperarla per vincere la guerra con essa l'abbiamo costruita per impedire che venisse usata per lo meno all'inizio ha speso due miliardi dei contribuenti per impedire che venisse usata per impedire che venisse usata da hitler alla fine alla fine si è scoperto che non esisteva nessun progetto tedesco per la bomba atomica noi l'abbiamo usata lo stesso chiedo scusa professore in un certo momento non l'è stato domandato esplicitamente se si doveva lanciare la bomba sul giappone non c'è stato chiesto se ma unicamente come doveva essere lanciata per ottenere i maggiori effetti è proprio così professore che cosa intende dire il ministero della guerra non le ha sottoposto ad un certo punto il cosiddetto rapporto frank il memoriale firmato da frank schlisard e altri fisici che si opponevano recisamente al lancio della bomba sul giappone e proponeva un'esplosione dimostrativa in un deserto davanti ad osservatori internazionali c'è stato fatto leggere sì non ufficialmente credo che cosa ha detto lei in proposito professore che non eravamo in grado di risolvere la questione che le nostre opinioni in merito erano molto divise e che avevamo messo insieme le ragioni pro e contro lei era contrario lorence era contrario io ero indeciso temo dicevamo credo che voi abbiate il nostro rapporto che il far esplodere una di queste bombe in un deserto come un petardo avrebbe anche potuto essere poco impressionante e che la preoccupazione determinante avrebbe dovuto essere il riguardo per le vite umane questo non significa in pratica che lei professore era contrario a un'esplosione dimostrativa e favorevole ad un lancio senza preavviso non così recisamente no noi eravamo dei fisici non dei militari o dei politici era il periodo della sanguinosa battaglia di okinawa era una decisione terribile ha scritto lei il rapporto ufficiale sugli effetti della bomba su Hiroshima sì sulla base dei dati di Alvarez che si trovava sull'aereo per misurare gli effetti il fisico Alvarez sì con dei nuovi strumenti di misurazione non ha scritto nel rapporto che il lancio aveva avuto uno splendido successo tecnicamente è stato un successo certo tecnicamente è molto modesto professore no no noi scienziati si siamo spinti in questi anni fino al limite della temerarietà abbiamo conosciuto il peccato bene professore è proprio di questi peccati che vogliamo parlare credo che alludiamo a cose diverse è proprio quello che voglio chiarire professore perché sono andato a frugare in quella vecchia storia di Hiroshima perché vorrei riuscire a scoprire come mai lei in quell'occasione si è attenuto in modo tanto rigoroso ai suoi compiti con una lealtà vorrei dire incondizionata e poi invece nella questione della bomba all'idrogeno si è comportato in modo del tutto diverso le due cose non sono paragonabili io credo no no avrebbe appoggiato il lancio di una bomba all'idrogeno su Hiroshima no perché l'obiettivo era troppo piccolo ci era stato detto che la bomba atomica era l'unica via per finire la guerra in fretta e vittoriosamente più di un mese fa sedendomi per la prima volta su questo divano avevo la precisa intenzione di difendermi perché sapevo di non aver commesso nessuna colpa e mi sentivo vittima di circostanze politiche che trovavo deplorevoli costretto alla disgustosa impresa di passare in rassegna tutta la mia vita i motivi delle mie azioni i miei conflitti anche i conflitti che non c'erano stati il mio atteggiamento cominciò a cambiare riflettendo sulle mie vicende le vicende di un fisico del nostro tempo ho cominciato a domandarmi se per avventura non avessi davvero commesso quella colpa che l'avvocato rob ha raccomandato di istituire se davvero non avessi commesso cioè un tradimento di pensiero questo penso che per noi è diventato un fatto ovvio ed abituale che le ricerche fondamentali della fisica nucleare siano protette dal più rigoroso segreto che i nostri laboratori siano pagati da autorità militari e sorvegliati come oggetti bellici quando penso che cosa sarebbe stato delle idee di newton e di copernico nelle stesse condizioni non posso fare a meno di domandarmi se cedendo i frutti delle nostre ricerche ai militari e senza pensare alle conseguenze non abbiamo per avventura tradito lo spirito della scienza così oggi ci troviamo in un mondo nel quale gli uomini scrutano con terrore le scoperte degli scienziati e ogni nuova scoperta suscita in loro nuove angosce mortali e sembra che ci sia scarsa speranza che gli uomini imparino presto a convivere su questo pianeta diventato troppo piccolo e scarsa la speranza che la loro vita in un giorno non lontano si fondi nel suo aspetto materiale sulle nuove scoperte filantropiche sembra certo un pensiero utopistico che l'energia nucleare dappertutto così facile da ottenere e così poco costosa possa dar luogo ad altri tipi di uguaglianza e che i cervelli artificiali che abbiamo costruito per lo sviluppo dei grandi mezzi di distruzione possano servire a mantenere in funzione le nostre fabbriche liberando così l'uomo dal lavoro manuale e restituendolo ad un'attività creatrice tutto questo conferirebbe alla nostra esistenza quelle libertà materiali che sono una delle premesse della felicità ma va detto che queste speranze non sono autorizzate dalla realtà in cui viviamo esse rappresentano tuttavia l'alternativa alla totale distruzione di questa terra distruzione che paventiamo senza potercela rappresentare e davanti a questo bivio noi fisici sentiamo che mai abbiamo avuto tanto potere nelle nostre mani e mai siamo stati tanto impotenti rivivendo qui la mia vita ho constatato che le azioni di cui la commissione mi ha accusato erano in realtà più vicine allo spirito della scienza che non i meriti che mi vengono riconosciuti pertanto io mi domando al contrario della commissione se per caso noi fisici non abbiamo dato talvolta al nostro governo una lealtà troppo grande troppo incondizionata contro il nostro miglior discernimento e per ciò che mi riguarda non solo nel caso della bomba all'idrogeno abbiamo dedicato gli anni migliori della nostra vita ad elaborare mezzi di distruzione sempre più perfetti abbiamo fatto il lavoro dei militari e dentro di me io sento che questo era sbagliato nonostante che io intendo oppormi al giudizio della maggioranza di questa commissione e quale che sia il risultato del ricorso io non prenderò più parte a progetti di guerra abbiamo fatto il lavoro del diavolo e adesso torniamo a quelli che sono i nostri veri compiti pochi giorni fa rabbi mi ha detto che intende tornare a dedicarsi esclusivamente alla ricerca non possiamo far nulla di meglio che tenere aperto il mondo in questi pochi punti che si possono tenere aperti